ciao amici come va tutto bene oggi siamo qui al lago Pranda a fare dei meravigliosi video in questo bellissimo posto si trova al cerretto laghi in provincia di reggio emilia mi raccomando iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nostri viaggi iscriviti al canale 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 ed eccoci qua dal lago Pranda è tutto se vi è piaciuto il video mi raccomando iscriviti al canale attivate la campanella e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao